salesforce è una piattaforma completamente in cloud è nata parecchi anni fa e partita dal mondo b2b quindi aiutare le imprese ad avere un crm una piattaforma che mettesse al centro il cliente che servisse appunto a capire quali fossero le esigenze dei dei propri clienti iniziando con la piattaforma che si chiama 6 cloud dopodiché ha ampliato il suo spettro su altre tematiche quindi è passata al customer service recentemente ha costruito anche la parte di e-commerce oppure la parte di employee quindi hanno fatto anche questa community per rispondere anche magari alle esigenze proprie dei dipendenti mi sono resa conto che salesforce avendo essa stessa delle release ogni quattro mesi permette di incrementare sempre di più le proprie conoscenze quindi non smettiamo mai di imparare questa cosa è fantastica è bello confrontarsi con gli altri soprattutto e trovare la soluzione ideale per ogni tipologia di di cliente non so se mi è mai successo di dover costruire lo stesso processo all'interno del sistema e quindi questa cosa a me sprona un sacco perché è proprio bello cioè ti alzi la mattina in realtà non sai cosa andrei a fare a 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